La corsa di maratona, la classica prova che chiude le olimpiadi della atletica leggera e che è esaltazione dell'eroico soldato di Salamina, ha visto la vittoria di un minuscolo atleta giapponese, Itai Son, che ha percorso i 42 km e 195 metri in ore 2, 29 primi, 19 secondi e due decimi, battendo altresì il primato olimpionico. La staffetta 4% femminile è stata una delusione per la squadra tedesca, all'ultimo cambio non è stato passato il bastone della staffetta ed è stata squalificata. La vittoria ha arriso alla squadra degli Stati Uniti, seguita da quella inglese. Nella piscina dello stadio si sono iniziate le prime gare di nuoto. Ecco alcune eliminatorie della gara, 4 per 200. Le batterie sono state vinte dalla squadra francese, da quella degli Stati Uniti e da quella giapponese. Nella finale di tuffi dal trampolino, con 5 salti obbligati, 3 nordamericani si sono classificati nei primi tre posti. e e po e e Grazie a tutti.